Mi sono candidato sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva per dare risposte ai cittadini, quelle risposte che puntualmente vengono negate, diritti dei cittadini soffocati. Ci troviamo a Taranto in Viale Ionio, ho accanto a me un abitante della zona, Cataldo Valentini, il quale abita in un immobile, in una struttura proprio adiacente ad un dosso artificiale, ad un rallentatore di velocità. Sta di fatto che questo dosso artificiale, in conseguenza del continuo traffico di veicoli, ha comportato delle lesioni nella muratura della sua abitazione. Numerose le richieste, le sollecitazioni rivolte dal signor Valentini e attraverso il suo legale all'amministrazione comunale, agli uffici tecnici, finora nessuna risposta. E allora parliamo di questa vicenda. Allora una casa, un immobile costruito con sacrificio, con amore e poi vedere, acquistato, e poi vedere appunto che questo... ...i sacrifici crollare addosso. Letteralmente, perché come vedete dalle immagini ci sono proprio queste spaccature, queste lesioni, interne ed esterne. Niente, dopo parecchi solleciti inviati all'amministrazione uscente, amministrazione Melucci, non abbiamo ricevuto alcuna risposta tramite legale, come diceva poco fa Luigi. E tra l'altro l'amministrazione, sempre quella uscente, non si è preoccupata del fatto che ci fosse un immobile posizionando proprio attaccato all'immobile un dosso rialzato, un attraversamento pedonale rialzato. Incuranti dell'abitazione hanno deciso di piazzare questo dosso qui davanti all'immobile e basta, è finita la storia. E ne hanno avuto la bontà di dire abbiamo fatto un errore, questo dosso non andava collocato lì, spostiamolo, neanche quello. La legge prevede che i dossi tra l'altro non possono essere situati avanti agli immobili o ad attività commerciali. L'aspetto che più davvero mi ha fatto impressione è vedere questa stanza con delle lesioni, la stanza dove dovrebbe dormire una bambina. E invece per ragioni proprio di sicurezza la stanza è vuota e la bambina dorme altrove. Eh sì, proprio perché per la preoccupazione mia e di mia moglie abbiamo deciso, abbiamo ritenuto opportuno spostare la bambina in un'altra stanza. Non è giusto che uno, ripetiamo, dopo tanti sacrifici, dopo aver acquistato un immobile, sacrificando la sua vita al lavoro per aggiustarla, per renderla vivibile, un'amministrazione decida un giorno di punti in bianco di piazzare un dosso incuranti del fatto che ci fosse l'immobile e dei disagi che poteva creare. Perché durante il passaggio dei pullman, dei mezzi pesanti, delle corriere, l'immobile è sottoposto a vibrazioni, sollecitazioni e onde d'urto. Ma lo abbiamo proprio notato, eravamo col cameraman a fare le riprese e si sentiva proprio sobbalzare letteralmente il manto stradale. Ma la cosa più grave, come si suol dire, è rare e umano per severare e diabolico, nel senso che attraverso il legale l'amico ha sollecitato l'amministrazione, i vari uffici tecnici, si è rivolto al gabinetto sindaco, al settore urbanistica per, come dire, rimuovere quel dosso. Perché la frittata è stata fatta, spostiamola. Neanche quella, nessuna risposta. Nulla, nulla, non ho ricevuto nulla di tutto ciò. Vedete, il cittadino paga le tasse regolarmente, il cittadino risponde, adempie all'iter burocratico per quanto riguarda i vari adempimenti in ambito di edilizia, in ambito di urbanistica, però poi alla fine si ritrova l'immobile realizzato che cade a pezzi. Stiamo parlando ancora, ci auguriamo che non sia così, che questo non sia l'inizio della fine, perché ovviamente queste varie fratture, lesioni che si creano nella muratura e per il susseguirsi del tempo è normale che aumenteranno e quindi moltiplicheranno e l'immobile diventerà molto più pericoloso. A questo punto poi, giustamente, il signor Valentini si troverà costretto a pagare un affitto e ad andarsene altrove. E magari sarebbe anche giusto che poi a un certo punto chiedessi anche i danni all'amministrazione comunale, perché non sta scritto da nessuna parte che io mi costruisco un appartamento e per l'incapacità amministrativa anche degli uffici tecnici, perché diciamocela tutta, qui c'è anche l'incapacità degli uffici tecnici, perché prima di allocare, di sistemare, di collocare un dosso dinanzi ad un'abitazione bisognerebbe conoscere le normative. Evidentemente o non le conoscono o hanno fatto finta di conoscerle, ma peggio ancora non hanno fatto nulla perché ciò non accadesse, nonostante appunto le sollecitazioni. Detto ciò speriamo di risolvere in quanto prima e in maniera a buon'aria la problematica. Vedete, io dopo 20 anni, oltre 20 anni di attività giornalistica, credetemi, mi sono stancato di vedere la sofferenza di tanti cittadini che si lamentano in maniera garbata. Ho apprezzato l'amico qui, Valentini, ha detto io non avevo chiesto neanche i danni al Comune, ho chiesto soltanto toglietemi quel dosso, poi alla fine le riparazioni delle lezioni che ci sono state, pazienza, me le faccio a spese mie. Neanche questo. Per questo, signori, dopo 20 anni di denunce, ho deciso di scendere in campo in prima persona perché bisogna invertire la rotta, bisogna rivoltare questa città come un casino, bisogna intervenire anche sugli uffici tecnici, gli uffici amministrativi. La macchina comunale è importante. Ho detto, se divento sindaco, scusatemi l'espressione forte, ma più di qualche funzionario e dirigente dovrà sollevare molto spesso il sederino dalla sedia per andare a girare per la città, per fare i sopralluoghi, per vedere cosa è stato fatto e quello che è stato fatto, se è stato fatto male come in questo caso, perché c'è una responsabilità evidentemente di chi ha messo una firma perché venisse messo quel dosso lì. E c'è un'omissione da parte di chi è stato sollecitato con tanto di PEC e, come dire, ha fatto orecchia da mercante. Io stimo molto il signor Luigi Abate perché l'ho visto sempre in campo, qui ai fianchi dei cittadini, l'ho visto anche in parecchie interviste nel rione Tamburi. Pensiamoci bene tutti quanti. Vogliamo scrivere insieme una nuova pagina per Taranto, una pagina che abbia il rispetto dei cittadini. Lo ripeto, la cosa più brutta è vedere che per l'inerzia, l'incapacità amministrativa di questa amministrazione uscente, vedere una bambina che deve rinunciare a stare nella propria stanza e deve andare a dormire in un'altra stanza sperando che pure quella non venga lesionata e perché di questo passo andremo incontro a lesioni su lesioni. Ecco, il cittadino non è un numero, il cittadino è un essere umano, soprattutto quando parliamo di bambini. Meditate lettori, meditate.